Grazie Martina e ben trovati tutti. Dunque, abbiamo detto che la formazione è un elemento fondamentale per quello che sarà il futuro del lavoro e questo ce lo dice anche il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, che appunto individua la formazione e in generale l'istruzione come uno degli elementi cruciali su cui andare ad investire. Ecco, ma la vera domanda per i giovani che devono entrare e che vogliono crescere all'interno del mondo del lavoro è al netto delle competenze, ma quale sarà il mondo del lavoro di domani? Per provare a rispondere a questa domanda ho il piacere di introdurvi tre graditi ospiti che proveranno con noi a analizzare questa tematica. Dunque, Irena Bednaric, ciao Irena, ben trovata, Director Corporate Affair Europe, Middle East and Africa for HP. Davide Dattoli, fondatore di Talent Garden. Ciao Davide, ben trovato. Ciao, buongiorno a tutti. E Marco Valerio Morelli, amministratore delegato di Mercer Italia. Ciao Marco, ben trovato anche a te. Ciao Marco, ciao Davide, ciao Irena. Grazie a tutti per essere qui. Dunque, Irena, partiremo da te con la prima domanda. Nella tua esperienza hai lasciato presto l'Italia per andare a cercare successo, competenze e carriera all'estero. Ecco, pensi che ad oggi le aziende italiane stiano adottando le corrette strategie per valorizzare effettivamente le competenze dei giovani di talento e quindi consentire un efficace ingresso all'interno del mondo del lavoro? Grazie, grazie per la domanda e per l'invito. Le competenze digitali e le competenze in generale sono senza ombra di dubbio un asset fondamentale per il mondo del lavoro e per poter progredire nella propria carriera. Detto questo, dal mio punto di vista, l'Italia da tempo sta in realtà facendo un buon lavoro nello sviluppo delle competenze. Ma quello che probabilmente manca da un certo punto di vista è veramente la stessa attenzione nel facilitare l'accesso al mondo del lavoro delle competenze che stiamo creando. Ormai vivo all'estero più o meno da vent'anni e sono molto vicina al mondo delle multinazionali anglosassoni. E la conclusione alla quale sono arrivate è che l'Italia ha una fortissima inclinazione, per non dire un'ossessione quasi, nel hiring experience rather than potential. Quindi come sistema paese abbiamo una forte tendenza a dare, diciamo, a puntare sul sicuro, sull'esperienza maturata sul campo, piuttosto che scommettere, anche prendendo dei rischi sicuramente, ma piuttosto che scommettere sulle competenze che stiamo creando. Per arrivare alla tua domanda, se le imprese in Italia stanno facendo abbastanza, ci sono dal mio punto di vista due assi fondamentali, diciamo, sui quali le aziende e le imprese possono aiutare il mondo di giovani in Italia. Da un lato la chiusura di questo gap che ancora purtroppo persiste tra un mondo della formazione ancora abbastanza teorico e il mondo, diciamo, più pratico del lavoro. E dall'altro lato sicuramente c'è una missione importante, importantissima dell'azienda in Italia per stimolare e creare queste competenze digitali. Se mi permetti, vorrei dare giusto qualche esempio delle attività che abbiamo intrapreso noi come Hewlett Packard Enterprise Italia. Una rivolta, diciamo, proprio alla formazione dei piccolissimi nelle scuole elementari, abbiamo creato tutta una serie di coder dojos per insegnare ai bambini a fare coding. Abbiamo poi, per esempio, nelle superiori lanciato un'iniziativa, dal mio punto di vista, importantissima per poter essere poi capaci di performare sul mondo, nel mondo aziendale. Si chiama Fab Lab ed è mirata ad insegnare ai ragazzi delle superiori le capacità di come si lavora in azienda, come si fa project management, time management, teamwork, accounting e via dicendo. Quindi, per concludere, se da un lato la formazione e l'accento anche che il PNRR sta mettendo sulla formazione è fondamentale e deve rimanere una priorità, dal mio punto di vista andrebbe sicuramente accompagnato da una forte campagna governativa volta a creare un mindset shift, cioè veramente rivoluzionare il rapporto che l'assetto italiano ha nei confronti dei giovani. E per concludere direi che questo tipo di campagna potrebbe sicuramente o dovrebbe promuovere dei role models, quindi delle figure di ragazze italiane giovani che sono riusciti a raggiungere le loro ambizioni professionali. E quindi, proprio per questo, mi fa veramente molto piacere essere sul condividere il panel con Davide oggi, che sicuramente è l'incarnazione di questo tipo di role models che andrebbero promossi molto di più in Italia. Grazie. Grazie a te, Irena, e anche per l'ottimo assist, appunto per la prossima domanda, che a questo punto non potrà che essere per Davide. Davide, Irena ha introdotto dei concetti sicuramente a te molto cari, vista la tua esperienza e la tua intuizione nel fondare Talent Garden, un oggetto, passami questo termine, che non esisteva in Italia prima di te. Irena ha parlato appunto di esperienza e probabilmente più volte hai già ribadito che nel futuro il lavoro sarà diverso. L'esperienza sarà molto meno legata ai concetti di spazio e di tempo, per avere un approccio molto più di comunità sul posto del lavoro. Ecco, per te la domanda è veramente molto ampia, lo capisco, ma come ti immagini che sarà il futuro del lavoro, l'azienda di domani? Grazie mille, diciamo che la vera sfida che abbiamo di fronte è che noi siamo figli di una cultura in cui le aziende sceglievano i candidati, erano loro a definire che cosa volevano, che cosa attraevano dal mercato. Oggi siamo dalla parte opposta, le aziende avranno in futuro sempre meno persone, perché la digitalizzazione e l'automazione stanno portando a questo, ma quel candidato diventerà lui a scegliere l'azienda che vuole e a quel punto diventerà fondamentale due grandi temi. Il primo è la cultura interna, quelli che saranno i valori dell'azienda stessa su cui attrarre i candidati, come si lavorerà all'interno del contesto aziendale e quelli saranno gli elementi che faranno sì che quell'azienda sia meglio delle altre, o almeno diversa. Il secondo è la visione, l'impatto. Sappiamo quanto sempre di più stanno avendo importanza tutti i temi ESG, non solo per gli investitori, ma anche per i talenti, per attrarre soprattutto popolazioni giovani sempre più innovative, sempre più digitali, diventa fondamentale la qualità dell'environment, la qualità della formazione, ne parlava poco fa anche Irena. Di fatto la sfida vera del nostro paese è formare le persone su ciò che c'è bisogno oggi, non solo con il modello universitario tradizionale, ma anche con modelli di formazione rapidi, veloci. Come Talent Garden stiamo lavorando molto su questi temi, con tante aziende, con tanti candidati, perché crediamo che sia la sfida del domani. Grazie Davide. La formazione è l'elemento su cui dobbiamo andare a puntare e a tal proposito, Marco, vengo da te. Parliamo di formazione, abbiamo parlato di esperienza, abbiamo parlato di valori, forse concetti non nuovissimi in assoluto, ma quanto mai importanti oggi. E quindi dalla tua posizione, che ti consente un quotidiano, direi, confronto con le principali realtà nazionali, le principali aziende nazionali, ecco, pensi che ad oggi siamo sulla retta via? Quanto le aziende italiane ad oggi stanno davvero intraprendendo questa strada di cambiamento? Allora Marco, la risposta secca è sì, siamo sulla retta via, assolutamente. Quello che è successo con la pandemia è che è stato amplificato quello che Davide diceva, cioè la persona è al centro nuovamente dell'organizzazione. Quindi cosa abbiamo assistito? Abbiamo assistito a due fenomeni. Uno, se volete, igienico, fisiologico, necessario per far funzionare le aziende durante la pandemia, che si chiama flessibilità, supportata evidentemente, in particolare in Italia, nelle grandi aziende, dagli investimenti in tecnologia, questo ha consentito di garantire la possibilità alle persone di esprimere le proprie capacità, competenze, attitudini nel nuovo contesto pandemico, che sarà anche, dal mio punto di vedere, anche post-pandemico. Il secondo elemento essenziale su cui si è lavorato, si sta riflettendo, è l'ascolto. Perché portare la persona al centro bisogna ascoltare il bisogno della persona. E quindi le grandi aziende, in particolare, hanno dettato la via di attivare momenti di ascolto, di vicinanza, di prossimità, da parte anche del singolo capo, del capo turno, del capo unità, del capo team, del project manager, che anche in un modello dove si sta sempre di meno in azienda, si sta sempre di meno nei luoghi tradizionali, diventa essenziale. L'ascolto per poi fare cosa? Per poi rispondere al bisogno della persona. Questi sono i due elementi, se volete, igienici. Poi ci sono stati e ci sono due elementi emergenti. Uno l'hanno citato Irene e Davide entrambi nel nuovo intervento. Il primo tema è il concetto di quali sono le competenze che mi servono domani. Dove le devo andare a prendere? Dove le devo andare a sviluppare, a formare? Con quale modello? Il modello non è più quello tradizionale. E quindi il passaggio sia di Irene che di Davide è molto interessante su questo. E le competenze non sono generiche, ma sono quelle che servono al mio business, al mio contesto, a vincere la mia sfida compiegativa. L'altro elemento importantissimo è il tema della reputation. Ha ragione Davide, sono i talenti che scelgono le aziende e non più il viceversa. Quindi le aziende stanno lavorando molto sul concetto della reputazione. Nella reputazione c'è quello che è un po' più grandino. Per questo mi sono messo la cravatta, sono un po' più grandino, non scherzo. Che è più grandino si ricorda il Codice Cile che diceva la diligenza del buon padre di famiglia nella conduzione d'azienda. Quello è il concetto, se volete, estremo del tema della sostenibilità e della reputazione. Quindi io devo creare un posto dove le persone sono fiere di lavorare per, sono proud to be part of. E questo è la frontiera per attarrare i migliori talenti, dove non basta più pagarli bene e dargli opportunità di crescita, ma anche il contesto di reputazione, l'impatto sociale, l'ascolto. Ecco, da ultimo, e poi mi taccio Marco, però passo magari la palla per un altro giro, è il tema della cultura del diversity and inclusion. Questo è molto importante. Aziende che siano inclusive. Inclusive perché se sei inclusivo riconosci l'altro, riconosci il merito, riconosci il talento e soprattutto direi a prescindere se ha 50, 60, 70, 20, 30 anni, piuttosto se sia cinese, italiano, piuttosto che sia uomo o donna o abbia altri orientamenti. Questo è molto importante, il concetto della diversity e dell'inclusione nell'ambito del supporto, della reputazione di un'azienda. Grazie Marco. Indubbiamente, sono tutti temi decisamente importanti, chiaramente non lo dico io, ce lo dice il mercato stesso, se vogliamo. Quindi appunto, inclusione, diversity, tematiche di ESG, indubbiamente, valorizzazione delle competenze. Sono tutte tematiche importanti su cui le aziende devono lavorare e spesso direi che quando un'azienda lavora deve investire soldi. E questo mi porta, se vogliamo, all'ultima domanda che vorrei farvi. In questo momento c'è questo piano nazionale che sta mettendo a disposizione un capitale importante, decisamente. Ma se provassimo a giocare insieme con questo capitale, ipotizziamo di avere una FISH di questo PNRR e potete liberamente andarla a puntare su la tematica che ritenete più rilevante per far sì che il futuro del lavoro sia il più roseo possibile. Ecco, Irena, parto nuovamente da te, quindi dalla prospettiva di un'azienda multinazionale nel mondo leader, nel mondo della tecnologia. Dove andresti a puntare questa FISH? Sicuramente, beh, il PNRR sta andando sicuramente nella direzione giusta. Se avessi una FISH da puntare, sicuramente l'elemento degli incentivi fiscali all'assunzione dei giovani è una carta che aiuterà moltissimo proprio a facilitare l'ingresso nel mondo del lavoro. Se ce ne avessi proprio un'altra, se me la concedessi, sicuramente un aiuto alle aziende per la formazione che già stanno facendo, però è chiaro che le aziende dovrebbero essere aiutate a poi anche riuscire a mantenere le persone che hanno formato. Sicuramente c'è un investimento da fare lato aziendale che sta già succedendo in Fieri, però sicuramente un aiuto governativo, diciamo, europeo, sarebbe il benvenuto. Grazie, grazie mille. Davide, cambiamo con te decisamente prospettiva. Il giovane imprenditore che ha creato una realtà di successo, dove metterebbe questa FISH? Vedo che tutti ci siamo resi conto di quanto sta cambiando il mercato del lavoro, sia per la digitalizzazione, sia per la crisi che il Covid sta portando. Serve la più grande operazione mai vista di reskilling e upskilling della popolazione italiana. Serve davvero riuscire a formarci tutti su quello che è necessario oggi. Proviamo a puntare 20 miliardi, il 10% del piano, a formare le persone, gli individui e le aziende. Diceva benissimo, Irene, serve aiutare le aziende ad aggiornare le proprie popolazioni aziendali, così come serve formare giovani e meno giovani a capire che il lavoro non è uno per tutta la vita, ma cambierà. Lo Stato deve e può fare tanto e forse il PNNR può davvero fare la differenza sul tema del reskilling nel nostro paese per costruire il mercato di domani. Grazie Davide. Quindi abbiamo detto fiscalità, skill due volte, quindi upskilling per il momento va per la maggiore. Marco, dal punto di vista della consulenza, cosa ne pensi? Allora, guarda Marco, io mi prendo la facoltà di Irene di spaccare la fiscia in due pezzi. Il primo ambito sono le competenze STEM. Noi siamo in ritardo come paese sui laureati STEM, sulle competenze STEM, siamo in ritardo sulla formazione tecnica scientifica. Io metterei una quantità di risorse importanti che non produrranno effetto subito, ma questa è un'occasione straordinaria per cambiare nel medio e lungo periodo la capacità del nostro paese di far crescere. Noi siamo in ritardo su questo filone. La seconda fiscia che metterei viene da una lettura di oggi. L'Italia non ha nessuna unicorn. Sapete, le unicorn sono le aziende maggiori a un miliardo di capitalizzazione di borsa. Allora, è possibile che nel nostro paese non ci sono talenti, ne abbiamo qualcuno qui in sala che ha creato realtà. È possibile che fare impresa viene visto male, è possibile che non ci sono incentivi per supportare il venture capital, per fronte a contare la crescita delle nostre aziende, per fare in modo tale che le intuizioni di tanti giovani che magari ci stanno ascoltando che hanno un'idea imprenditoriale vengono finanziati e vengono accompagnati a diventare aziende da at least one billion. Ecco, la mia seconda fiscia è su sviluppare un sistema di unicorn che nasca dai giovani imprenditori nel nostro paese. Grazie Marco.